Qualche attaccante in previsione c'è, però, insomma, Falconieri... Oh, intanto, vedi, abbiamo un altro ospite, buonasera anche a lei, signor Cane. E quindi Falconieri, un grande acquisto, secondo me, per gli uomini di... Questa è una punta forte, no, e ora se ne è andato il Cane, però anche quello glielo consiglio, mister. Ho visto che è arrivato con il fiuto da grande attaccante e poi se ne è andato con il passo di una grande ala. Comunque, bello anche questo fuori onda. Il bello della diretta è che manteniamo, che manteniamo nonostante siamo registrati. Sì, sì, assolutamente.